Lui non lo so, sono appunto più detti di Google, per spesso. Ok, bella rega. Va bene. Ciao a tutti da Chris Attigier, salutatore del blog. Eccomi qui con Anthony. Bella. Ecco, senti, qualcosa sul tuo canale? C'è, c'è. Qualche anticipazione? No, guarda, il canale più che altro è Facebook. Profilo Facebook. Anticipazioni? Beh, non esistono anticipazioni. No, non è, non viene. La dici, la dici, non ce la vuoi dire. Beh, il punto è che ancora non l'ha inventata, quello è il problema. Perfetto, però a breve l'ha inventata, perciò seguitelo, eh. Salutiamo tutti gli utenti di tutti i social. Bello. Ciao, visto a TJ e Anthony. Anthony, ciao.